Buongiorno e bentrovati a tutti quanti. Lavoreremo insieme anche questa mattinata e continueremo quello che è il nostro programma. Oggi parleremo di motivazione, di gestione del tempo e di comunicazione. Lo faremo sempre con la modalità di ieri, quindi faremo dei piccoli lavori, faremo un piccolo gioco e faremo poi un lavoro finale. Come prima cosa volevo chiedervi, ieri avete scritto una parola che appunto vi era rimasta impressa dal pomeriggio trascorso insieme. Vi chiedo di riguardarla e di valutare se quella parola è rimasta tale o se si affianca a quella parola un'altra parola o se oggi la sostituireste con un'altra. Un minuto per questa cosa in... Ce l'avete con voi? Qualcuno vuole condividerla questa parola? Io ieri ho scritto dinamicità, oggi ho aggiunto schimolanzia. Ok, grazie. Qualcun altro? Ok, sono vostre. Allora, cominciamo con un piccolo lavoretto. Allora, vi scegliete a coppie, cercate di scegliervi tra persone che non si conoscono, cioè cercate di fare una scelta tra persone che non conoscete bene. Avete tre minuti, anzi no, due minuti a testa per raccontare qualcosa di voi relativamente alle vostre attività. Mentre raccontate l'altra persona, che può anche fare delle domande, andrà però soprattutto a scrivere quelle che secondo lei, secondo lui, sono le motivazioni che spingono questa persona a fare ciò che fa. Ok? Quindi, vi scegliete a coppia, due minuti a testa per raccontarvi, l'altra persona scrive quelle che secondo lei sono le motivazioni che spingono questa persona a fare tutto quello che fa, tutto quello che gli viene raccontato. Fate la triade? No, sarebbe meglio... Allora, sceglietevi, ripeto, cercate di non scegliere la persona che conoscete, una persona che conoscete. Allora, siate autonomi nel gestire questo tempo, quindi due minuti a persona, dopo che la persona, dopo che avete finito di parlare sia entrambe nella coppia, raccontatevi quelle che sono le motivazioni e datevi un riscontro su questo. Prima vi raccontate quello che fate, beh, come attività lavorativa, extra... Ebbè, dell'altro, quindi mentre tu racconti, lui scriverà quelle che secondo lui sono le tue motivazioni. Quindi non devono essere trasparenti nella... No, non devono essere trasparenti nella... non siete voi che le raccontate, è l'altro che le deve dedurre. Grazie. 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 Io non ho nessuno, perciò a piacere di vita. A piacere, a piacere di vita. Allora, guardiamo noi. Ma lo so, che cosa posso chiedere? Come è arrivata a svolgere questo evento? Però, aspetta un attimo. Scusi, puoi spegnere, per favore? Grazie. 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 Lo scambio è interessante, quindi vedo che continuate. Grazie. Ok, allora vi faccio due domande. La prima domanda è, e ci collega anche poi all'argomento successivo, è siete rimasti nei tempi? Avete rispettato i tempi? Avete distribuito equamente il tempo tra una persona e l'altra? C'è stato qualcuno che ha preso più tempo, qualcuno che ha preso meno tempo? Com'è andata la gestione di questo tempo? Di non cronometrare? Ok, qualcun altro? Questo aspetto? Sicuramente non abbiamo rispettato però la percentuale che non è stata riuscita. Ok, c'è stata un'equità di ripartizione del tempo. No, ma probabilmente i tempi combaciano e baciano tra di loro. Bello, questa immagine. La seconda domanda è, nel feedback vi siete ritrovati in quello che l'altro vi ha detto? Sì, sì, non è evidente. Ok, ma avete sentito che l'altro ha colto quelle che sono le motivazioni che vi spingono a fare le cose che fate? No, io non c'è. Cioè non sono riuscita a riuscita a riuscita. Ah, ok. Non mi metto niente. O forse magari il tempo poteva essere poco, ci sono delle persone comunque che hanno bisogno di entrare nell'altro con una velocità che è diversa, quindi obiettivamente due minuti e poco tempo per cercare di capire quali sono le spinte motivazionali dell'altro. Magari ecco un piccolo assaggio potrebbe essere, però non è un tempo di conoscenza approfondita che ti potrebbe permettere di dire è un mio limite, può essere. Qualcun altro? Come vi siete sentiti? Riconosciuti, non riconosciuti? Voglio sentire le vostre voci, sì, ok. Che cosa sono le motivazioni? Qualcosa che vuole e che significa fare un'interazione? Ok, sono come delle leve in alcuni casi, quindi possono essere delle motivazioni, cioè delle spinte interiori che ci portano ad attivare la nostra energia per fare un qualcosa. E quindi questa è la spinta attivatrice delle motivazioni. C'è soltanto la spinta attivatrice? In alcuni casi ci possono essere anche delle spinte che demotivano la persona e in ogni caso la motivazione può essere di attivazione o di orientamento. Quindi un qualcosa che ti porta a fare un qualcosa o un qualcosa che una volta che lo stai facendo ti fa ritrovare la strada, ti riporta nella strada giusta. Ricordiamoci quello che abbiamo detto prima, ieri parlando della leadership anche individuale, ogni tanto ritrovare la bussola e vedere un attimo se la direzione verso la quale stiamo orientando tutti quelli che sono i nostri sforzi è la direzione corretta. Quindi motivazione è anche capire quelle che sono le motivazioni che ci spingono a continuare, a perseverare in un'azione, nel conseguimento di un obiettivo eccetera, per verificare se stiamo andando verso la direzione giusta o se stiamo disperdendo quelli che sono i nostri sforzi. Due tipi di motivazioni, da una parte delle motivazioni biologiche, quindi motivazioni che sono dettate da che cosa? Dal soddisfacimento di bisogni che vengono considerati primari, mangiare, dormire, poi? L'aspetto sessuale, esatto, l'aspetto sessuale, altri bisogni primari? Non è un bisogno primario, altri bisogni sono psicologici cognitivi e quei bisogni psicologici cognitivi ci derivano dall'esperienza. E allora lì la nostra mappa del mondo, quella che è appunto tutto il bagaglio di schemi mentali che noi abbiamo eccetera, ci va ad influire su quelle che sono le nostre motivazioni. Allora, relativamente, abbiamo fatto questo lavoro, quelle che sono le spinte motivazionali delle persone, sicuramente è stato comprovato da numerosi studi che le persone soddisfatte vanno a produrre dei risultati che sono eccellenti e che relativamente, qua ci agganceremo poi al feedback, relativamente a ciò che noi facciamo abbiamo comunque necessità quotidianamente di verificare quello che è il risultato delle nostre azioni, di avere un ritorno di quelle che sono le nostre azioni. relativamente alla motivazione, tutti quanti forse conoscono la piramide dei bisogni di Maslow, è la piramide dei bisogni che ci va a appunto chiarificare quelli che sono le spinte che ci portano a muoverci nella nostra vita. Ci sono bisogni, abbiamo detto, che si collegano a quei bisogni biologici primari che sono i bisogni fisiologici e i bisogni di sicurezza. Tra i bisogni fisiologici, l'abbiamo già detti prima, dal respiro che è dato per scontato all'alimentazione, il sesso, il sonno, il mantenimento dell'equilibrio dell'omeostasi del nostro organismo, ai bisogni di sicurezza. Il mantenimento di quello che è il nostro stato di benessere, di benessere in termini però di senza andare sul versante psicologico, di assenza... Freddo, caldo, esatto, il sentirsi puliti. Tra i bisogni di sicurezza, quindi la sicurezza fisica, i bisogni di sicurezza di occupazione, una sicurezza familiare, la sicurezza intesa come appunto l'assenza di malattia, il benessere in questo senso. La sicurezza in termini di possedere delle cose, che sono naturalmente dei beni primari. Nella piramide dei bisogni di Maslow, ogni gradino non lascia spazio al gradino successivo se non è realizzato. Quindi se non soddisfiamo i bisogni fisiologici non andiamo sui bisogni di sicurezza, se non soddisfiamo i bisogni di sicurezza non andiamo ai bisogni di appartenenza. Quindi abbiamo necessità di risolvere una parte, uno dei gradini della piramide per poter pensare di andare oltre. Quindi per quanto riguarda alcuni bisogni di ad esempio riconoscimento, di realizzazione, di raggiungimento di quello che è il nostro ideale di benessere, non potremo mai investire il nostro tempo nella realizzazione di questi bisogni, nel perseguire questi bisogni, se non abbiamo assicurato ogni giorno il mangiare, se non abbiamo un luogo in cui dormire, se non abbiamo la possibilità di pensare che domani potremo mangiare, dopodomani potremo mangiare eccetera. C'è un film molto carino che riprende la piramide di Maslow, vi viene in mente? Un film molto carino che tutti gli anni fanno, ripetono eccetera. Come? Non lo conosco. Esatto, una poltrona per due. Che dimostra come c'è il manager, l'avete visto tutti? C'è il manager super affermato, i cui bisogni sono sicuramente in alto nella piramide, che ad un certo punto si ritrova a non avere niente. E quindi a accantonare totalmente quella che è la sua spinta, la realizzazione, e a dover ritornare ai bisogni fisiologici. Prego. Però c'è l'apice della piramide. Come? Perché forse, beh, che sono lo zoo, cioè senza dormire, senza mangiare, senza avere una casa. Perché non dormono le autore. Evidentemente per loro sono sufficienti. La famiglia, quanto tempo, la sala non c'è. Forse per loro non sono importanti. Ma non c'è l'accento. Cioè, molte persone di un certo hanno sufficiente... Ah, sì, al trenti. Tu dici, si dedicano a dei bisogni che sono più alti nella piramide senza... Cioè, stavo commentando... Stavo commentando il fatto, quello che dicevi, che per raggiungere lo stato superiore bisogna avere quello precedente. Sì, soprattutto i bisogni fisiologici, i bisogni di sicurezza e i bisogni appunto fisiologici. Però mi fa pensare il fatto che molte persone che conosco, con cui magari ho avuto esperienza, che hanno raggiunto l'apice della piramide, quindi stima e autorealizzazione, non hanno i tre gradini precedenti. Sono persone che magari dormono poco, quindi il sonno non c'è. Sono persone che non hanno... non dedicano molto tempo alla famiglia, la trascurano. Però... No, no, ho capito, però manca, questo sto dicendo, non è vero che c'è. In realtà, quelle tre parti che sono... a me sembrano assenti, quindi come hanno fatto a arrivare... Nella tua mappa mentale sono assenti, nella loro mappa mentale forse sono sufficienti. È una questione di gradualità. Ma, oddio, la famiglia bisognerebbe chiederlo alle moglie e ai figli. È vero, è vero, è vero. Però poi le spinte, visto che sono personali, si vanno, appunto, per i bisogni che non sono i bisogni biologici, tutti gli altri bisogni vanno ad incastrarsi in quella che è la mappa percettiva del soggetto. Quei soggetti spesso si accorgono, magari, sono delle questioni che capitano, mi sono capitate, si accorgono di aver magari trascurato totalmente l'aspetto familiare, nel momento in cui vengono lasciati, magari, dalla moglie o dal marito, nel momento in cui si ritrovano, magari, completamente soli e immersi in un unico, diciamo, centro, che è, magari, il lavoro, che è la realizzazione del sé. Mamera, questo è il mio pensiero. Mi sembra che trascurino quelli che sono, invece, i gradini che, dalla piramide, sembrano essere fondamentali per raggiungere. Loro l'hanno raggiunto trascurandoli. Sì, più che altro, non possiamo sapere se li hanno trascurati, perché non siamo loro. Forse per loro sono soddisfatti. È una nostra percezione, ok, ok, ho capito. È probabile che sia una nostra percezione. È tutto graduale rispetto a quello, e quindi, in percentuale, è coerente con quella che è la persona, con quello che è il centro di quella persona. Ok, grazie. Una cosa che, secondo me, colma queste due visioni, che non sono differenti, sono complementari. C'è gente che non arriverà mai, essendo ricca, fermata in una posizione sociale stabile, al gradino giallo o anche al gradino arancio, anche al gradino rosso. Probabilmente si fermano alla sicurezza fisica di un'occupazione, cioè non sono, come dire, in contrapposizione. Non dobbiamo vedere una persona stabilmente realizzata dal punto di vista economico o occupazionale come una persona che ha raggiunto l'autorealizzazione. A volte, forse, non ci arrivano mai. Dipende da quelli che sono i suoi valori, dipende da quelle che sono, diciamo così, le sue aspirazioni, da quelli che sono gli obiettivi che le persone si prefiggono. C'è un obiettivo molto alto come lo chiamano, come le autorealizzazioni. Esatto, non tutti sentono la spinta a raggiungerlo. È giusto o sbagliato? No, è funzionale o non funzionale per quella persona. La diversità e la ricchezza anche di cui parlavamo ieri. Quindi nel momento in cui ci troviamo a interagire con una persona, è importante conoscere la piramide di Maslow per sapere che se, soprattutto i primi due bisogni, che sono i bisogni fisiologici e i bisogni di sicurezza, se non vengono rispettati, se non vengono soddisfatti, quella persona avrà poco, e vi faccio degli esempi pratici, avrà poca spinta ad avere, diciamo così, come riconoscimento da parte, ad esempio, dei propri superiori, qualcosa che aumenti la propria autostima. Se nello svolgere un'attività lavorativa, quotidianamente, mi vengono dati 300 euro, 400 euro, e con quei 400 euro io non riesco a mangiare tutti i giorni, a garantire magari il sostentamento di un'altra persona oltre che me, se con quei 400 euro io non riesco a pagarmi un affitto, o comunque ad avere la sicurezza di un luogo nel quale io e la mia famiglia posso stare, non mi interessa che di avere un riconoscimento del valore del mio lavoro. Quindi anche misurare quelle che possono essere le spinte degli altri, che in alcuni casi possiamo anche giudicare troppo semplici, in funzione di quello che è una conoscenza un po' più ampia della sua mappa del mondo. In alcuni casi ci sono delle situazioni piuttosto difficoltose, nelle quali si trovano delle persone, non è detto che nell'ambiente lavorativo abbiano voglia di condividere questo, semplicemente nel momento in cui io ho una risorsa e mi rendo conto che quella risorsa ha necessità come riscontro, come spinta di avere un riconoscimento economico e che soltanto in quel modo si muove, dovrei semplicemente impegnarmi ad accettare, senza magari poter anche andare ad indagare, il fatto che magari quella persona i primi due bisogni non riesce a soddisfarli con quella che è il, diciamo così, la retribuzione che viene data. E quindi alla famosa pacca sulla schiena, il famoso bravo come riconoscimento da parte del proprio superiore, le persone cominceranno ad apprezzarlo nel momento in cui quei primi due bisogni sono stati assolutamente rispettati, sono stati assolutamente soddisfatti. Questo è importante, diciamo così, tenere a mente della piramide di Maslow. E anche tener conto che anche io in questo momento, in cui ci sono anche delle aziende molto importanti che per questioni appunto di mercato, in seguito alla crisi, si trovano a dover mettere in cassa integrazione le persone. Tu vedi nei gruppi di lavoro cambiare completamente quelle che sono le attitudini, quelli che sono gli atteggiamenti delle persone, proprio perché nella loro mente ormai c'è soltanto l'orientamento verso il soddisfacimento dei primi due bisogni. E quindi c'è un regredire? Sì, c'è un regredire. Perché? Perché è l'esigenza che porta a questo. E allora, per motivare il team, quindi una volta che teniamo presente queste spinte, questo l'abbiamo detto ieri, una delle cose che possiamo fare è cercare di condizionare positivamente i comportamenti, rinforzare i comportamenti delle persone. E possiamo rinforzare i comportamenti delle persone usando il feedback. Il feedback può essere negativo o può essere positivo. È sempre un regalo. Anzi, vi dirò di più. I feedback negativi, adesso arrivo, i feedback negativi sono i regali più grandi. Di feedback positivi ci riempiamo l'ego. I feedback positivi ci servono per capire se la motivazione che ci dà un orientamento ci sta portando verso, diciamo così, la strada giusta. Ci sta continuando a far percorrere la strada giusta per vedere se la nostra bussola è ben orientata. Ma i feedback negativi sono quelli che ci fanno crescere. Prego. Quindi esiste il feedback negativo? Certo. Cioè, la domanda era, siccome col negativo impariamo di più e ci vengono date delle indicazioni. Cioè, mille errori significa mille passi verso la soluzione più che mille sconfitte. Esatto. E quindi, in senso, provocatorio esiste il feedback negativo. Io non lo vedo negativo. Se anche rimani male è perché ti stanno criticando, ma quella critica ti porta a superare una... E' struttivo. Anche. Certo. Volevi anche tu? Dopo. Allora, domanda sorge spontanea. Se il no è cool, perché c'è il faccino triste? Beh, perché comunque la prima reazione emotiva delle persone nel momento in cui ricevono il feedback negativo è un attimo di... Oddio, la mia immagine è questa. E la nostra immagine è sempre molto elevata, no? La mia immagine è questa. Lo specchio che mi viene dato dall'altro fa sì che la mia immagine non sia più questa, ma sia questa. Quindi, emotivamente, c'è sempre un senso di delusione. Se non altro rispetto al giudice più terribile che noi possiamo incontrare, che siamo noi stessi. Quindi dovremmo allenare meglio l'intelligenza a primo impatto? In che senso? Cioè, essere più intelligenti nel momento in cui ah, hai fatto il cattivo, ah, non hai prodotto quella... Allora, al posto di essere, appunto, inizialmente più spiazzati, allora più intelligenti nel senso ok, spiazzato fino a un certo punto, ai 20, 30, massimo 40%, mai alla pari, comunque, cioè, sarebbe il top. E poi, man mano, cominciare a immagazzinare tutti i pensieri, le parole e quindi i commenti che ci vengono fatti. Sì, e io aggiungerei una parola, parola e forse avrei usato un'altra parola, al posto di intelligenti umili. Ecco, cos'è l'umiltà? Io non l'ho mai capito, non so. Cos'è l'umiltà? Per me è quel senso di conoscenza della propria vulnerabilità, del proprio limite, quella sensazione che mi fa pensare tutti i giorni che posso imparare qualcosa da chiunque. E un po' remtene verba sequentur? Come? E un po' remtene verba sequentur? Traducimelo perché... Cioè, possiedi l'argomento, poi le parole verranno... Scusa, perdonami. Sì. Cioè, un po' possiedi l'argomento. È un po' la missione del che è bello, sarò sempre ignorante in qualcosa. No, è bellissimo, è come arrivare ai secondi, una cosa... Non è come arrivare ai secondi, è un pensare... Almeno, questo è la mia. No, 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 io faccio una domanda, poi non lo so, io... Sì, io lo vedo... Sono da questa parte, quindi posso permettermi. No, no, figuriamoci, potresti permettertelo anche... No, 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 assolutamente. No, io do quella che è la mia visione. Nella mia visione è, per fortuna, ho sempre qualcosa da imparare. Avrò sempre qualcosa da imparare. E chi potrà insegnarmelo sarà chiunque. Questo. Perfetto, grazie. Niente. Alla prima. Mi veniva in mente questo, che quando si dà un feedback negativo, credo che appunto per aiutare la persona a superare quell'impatto negativo che c'è comunque sempre in uno di noi al primo momento, credo che sia importante darlo sulla cosa in sé, cioè sul compito che magari non è stato svolto bene, oppure c'è su un aspetto oggettivo, ma salvando sempre la persona e quindi il soggetto. E quindi questo dà una dimensione alla persona di... Non sono sbagliata io, ma ho sbagliato a fare questo. Allora, io sono pedagogista, per cui dico questo, lo applico anche ai bambini, cioè trovo molte corrispondenze, no? Assolutamente. Nel senso che noi a volte queste cose le applichiamo nei confronti dei bambini, ma poi ci dimentichiamo, no? Che anche le persone adulte hanno bisogno e diritto allo stesso rispetto da parte nostra. E quindi questo dire non sei cattivo, no? Non è quello il concetto. Hai sbagliato a fare questo, punto. Rimani lì. Ecco, credo che siamo... Non so, mi senti... Assolutamente. Non ho ancora dato le definizioni di come costruire un feedback. Quello che tu hai detto lo anticipa assolutamente ed è coerente, certo. Certo. Va salvaguardata la persona. Quello che viene dato come riscontro è un riscontro relativamente all'agito, a quello che è il comportamento. E noi non siamo il nostro comportamento. Noi i comportamenti li agiamo. Volevi... Sì. Sappiamo apprezzare... Cioè, il problema è che il feedback è positivo. Però poi, cosa scatta nella mente di una persona quando riceve un feedback negativo? Perché molte volte il feedback non viene dato per paura di far male alla persona che è di fronte. Quindi, la domanda è come strutturare il feedback per far sì che sia costruttivo per quella persona e non semplicemente negativo? Ok. Allora, per costruire un buon feedback sia che sia positivo sia che sia negativo e per buono intendiamo un feedback che possa aiutare l'altro a crescere e stimolare l'altra persona. Noi dobbiamo primo attenerci ai fatti. Che cosa è successo? E per poterlo fare ci dobbiamo un po' allenare a discernere tra quelli che sono dei fatti e quelle che sono delle opinioni. Quindi, nelle opinioni noi stiamo interpretando, noi stiamo aggiungendo un qualcosa che è nostro, noi stiamo andando a confrontare quelle che sono le nostre aspettative con quello che è successo e stiamo appunto in un senso che non è un senso di realtà. Quindi, che cosa è successo? Dopodiché, aggiungiamo il che cosa ha suscitato in me? Perché l'aspetto emotivo non possiamo mai scardinarlo. Allora, esplicitarlo è molto importante. Quindi, è successo questo. A me ha dato un po' fastidio. A me ha provocato un po' di ansia. A me ha suscitato paura. Dopodiché, quali sono state le conseguenze? su di me o sugli altri? O sul, diciamo, lavoro che stiamo svolgendo? Ha determinato questa, questa, questa conseguenza, queste conseguenze? O che cosa avrebbe potuto determinare se per qualche motivazione non c'è stata una conseguenza? E successivamente dei suggerimenti, delle aspettative a esplicitare mi aspetterei che la prossima volta oppure ti chiederei se è possibile per una prossima volta? Vi faccio un esempio. Mi trovo a lavoro, ho assolutamente bisogno di avere il riscontro da parte di una collega della sua disponibilità ad andare in aula. Chiamo, richiamo, richiamo, niente, il cliente mi chiama e io sono disperata perché non so che cosa dirgli, il cliente mi dice guarda che io devo fare le convocazioni, mi devi dire se va o non va questo corso, quel giorno c'è o non c'è. Ad un certo punto, dopo tutta una giornata, riesco a trovare questa persona al telefono, la chiamo e le do un feedback. Le do un feedback e gli dico, guarda, oggi ho provato a chiamarti tutto il giorno e tu non hai voluto rispondermi. Questa cosa mi ha creato veramente ansia, anche disagio, non ho potuto dare una risposta al cliente e quindi ad un certo punto il cliente mi ha detto va bene, vi sei considerato che alle persone devo dare almeno 15 minuti di tempo, scusate, 15 giorni di tempo per potersi organizzare, saltiamo questo mese e faremo, cercheremo di ricalendarizzare il tutto il prossimo mese. La prossima volta ti chiedo la cortesia, se per caso ti ritrovi in un punto nel quale non prende il telefono o se per caso appunto vi sei considerato che già c'eravamo detti che ci saremmo sentiti per questo motivo di magari uscire durante la pausa e darmi magari un riscontro relativamente a guarda, ci possiamo sentire più tardi, verifica magari se hai ricevuto le telefonate se puoi richiamarmi. E' un buon feedback. nel senso che ci vuole una capacità di autocontrollo non da poco. Ma è buono? E' strutturato come vi ho detto prima? Che cosa? E' troppo condiscendente. Ok, poi lì sulla condiscendenza o meno applicando no, 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 applicando sempre la leadership situazionale a seconda del tipo di persona con la quale mi troverò a parlare adatterò un minimo il mio stile, no? C'è un feedback positivo nel senso che promuove e stimola anche il senso di responsabilità di chi lo sente. Applicarli è un'altra cosa. Ok, è vero. Non è facile. Si fanno corsi e appunto mi sono stati chiesti stamattina per un cliente soltanto sulla gestione dei feedback. e imparare come dare feedback alle proprie risorse giornate intere in cui ci si esercita su questa cosa proprio perché non è semplice. Voi avete detto no, perché? Perché all'inizio hai espresso una tua opinione. Perfetto. Che cosa ho detto? Hai espresso una tua opinione. Non hai voluto rispondere. Non hai voluto rispondere, esatto. Ok. un feedback del genere inficia tutto. Perché? Perché l'altra persona si sente giudicata quello che dicevi tu. Quindi nel feedback all'altra persona tu racconti i fatti non hai risposto al telefono. È un fatto. Che poi tu non abbia voluto rispondere è una mia interpretazione perché ero in un'aula eh, guarda ero in un'aula bunker. L'altra persona che riceve un feedback del genere si giustifica. Ogni volta che diamo il feedback ad una persona e quella persona si giustifica significa che l'abbiamo formulato male oppure significa che l'altra persona non è allenata a ricevere dei feedback e sente e certo. Certo. Cioè il corso per chi deve formulare il feedback sta bene ma anche il corso per chi lo deve ricevere certo. Non è banale. No. Non è banale. Non è banale. perché perché comunque appunto sempre per quella situazione nella quale ci troviamo in discordanza tra quella che è la nostra immagine di persone super efficienti di persone super organizzate eccetera nel momento in cui ci rendiamo conto che questo è venuto a mancare che qualcun altro ce lo sta dicendo dentro qualcosa diciamo così ci dà fastidio e allora la prima la prima spinta ma ci si allena in questo ci si allena è con con chiarezza nel momento in cui io decido di usare lo strumento del feedback per motivare le mie risorse scelgo di condividere insieme a loro anche la modalità con la quale farò i feedback il fatto che ritengo importante farlo condividere con l'altro che cosa ne pensi dei feedback come ti senti nel momento in cui ricevi feedback magari la persona ti dice beh non lo so non mi è mai capitato cominceremo a farlo mi piacerebbe poi dipende anche piano piano da quello che è il rapporto che c'è con con la persona con la risorsa mi piacerebbe che tu mi dessi un riscontro anche in termini di che cosa ti ha suscitato questo mio feedback nel momento in cui la persona piano piano si allena a formularli correttamente e poi a riceverli i feedback diventano veramente dei grandi regali e attraverso i feedback veramente sviluppiamo le nostre potenzialità maggiori volevi sì vuol dire che un feedback negativo esiste solo se la persona non lo sa comunicare o al contrario se la persona non lo sa ricevere no perché il feedback negativo potrebbe essere negativo in quanto l'argomento che io sto dicendo è un qualcosa che non va bene cioè è un comportamento che non va bene sì è un qualcosa che non va bene in termini di non è funzionale la situazione semplicemente non in funzione di quelle che sono appunto le mie aspettative eccetera sì sì no io lo intendevo cioè se anche mi stai criticando su qualcosa ma io so che lo stai facendo per la mia crescita o per il risultato del nostro lavoro non è più un feedback negativo di cui mi sento colpevole ma ci lavoro su per certo certo negativo è soltanto per l'argomento in sé cioè non è un non ti sto dando un riscontro su qualcosa che è andato bene o che secondo me è andato bene ripeto sempre in termini di funzionalità in in rapporto al raggiungimento dell'obiettivo quindi dell'efficacia semplicemente in questi termini c'era anche lui poi tu magari visto che c'è se non ti dispiace no niente volevo dire che a volte sembrerebbe che il fatto e l'opinione siano oggettivi cioè quello che per te può essere un fatto io lo posso interpretare come una tua opinione mi fai un esempio sì per esempio tu mi dici questo compito questa relazione non l'è scritta bene per te è un fatto però dal mio punto di vista se sono convinto che la relazione è scritta bene la reputo semplicemente una tua opinione dico vabbè per te non va bene per me va bene è molto importante quello che tu hai detto e dietro che cosa c'è però? dietro che cosa c'è? una mancanza di chiarezza una mancanza di chiarezza di quelli che sono gli elementi relativi ad una buona relazione o una relazione che non va bene quindi nel momento in cui io responsabile assegno un obiettivo ad una risorsa definisco bene quelli che sono anche i criteri cioè anche nella delega di responsabilità io comunque devo dare chiarezza all'altro di che cosa mi aspetto lo devo condividere questo è fondamentale penso quello che sarà giudicato esatto sì ok grazie niente c'eri tu e poi ci sei tu volevo chiederti sulla seconda parte quando il responsabile dà suggerimenti su cosa fare in futuro tipo non so la prossima volta mi aspetterei che durante le pause magari controllassi il telefono per come quando l'hai raccontato non era troppo impostata sul devi in quel caso sì ok c'è stato una sorta di stile prescrittivo esatto ok grazie sì dipende sempre dal rapporto da com'è quella risorsa ok indipendentemente dalla risorsa si potrebbe dire che magari converrebbe a posto di usare qualcosa di prescrittivo a seguito di un feedback negativo invece mettere l'altra persona nelle condizioni di spiegare cosa è successo e trovare assieme una soluzione è una giustificazione al limite quello che sei tu che cosa proponi per la prossima volta cioè io ti magari ti do un suggerimento che ne pensi tu che cosa proponi in alternativa ok questo sì dipende dal grado di maturità della risorsa ok io mi sono accorta che riguardo al feedback negativo al di là dell'impatto ovviamente che qualsiasi feedback negativo crea l'inizio quindi un po' di mi dispiace avrei voluto però mi influenza forse di più la persona che l'ha fatto cioè se deriva da una persona nei confronti della quale non ho una grande stima ho più difficoltà ad accettarlo quindi in quel momento diventa difficile accettare al di là del concetto il fatto come faccio ad accettare un feedback negativo da una persona che non ammiro o stimo è come se perdesse un po' di valore quindi come si fa in quel caso? Quello è un blocco della comunicazione è un blocco comunicativo nel momento in cui stiamo parlando con una persona se disconosciamo quella persona e dobbiamo capire quali sono le motivazioni naturalmente se le motivazioni di disconoscimento di quella persona sono ad esempio l'incoerenza tra quello che dice e quello che fa ad esempio è un esempio abbastanza classico è del caso ok mi devo chiedere quanto magari può essere importante per me per la mia crescita a prescindere da quella persona andare a vedere se veramente nel contenuto di quel messaggio c'è qualcosa che mi può essere utile ma infatti io sono convinta di quello comunque rimane devo vincere però è difficile accettarlo di più al di là di qual è il punto è perché me l'ha fatto magari una persona che non esatto esatto perché comunque è come se poi ogni persona naturalmente è diversa nell'interpretare una situazione del genere però a me suscita un ma dietro come motivazione implicita come messaggio implicito a questa persona che cosa mi sta dicendo c'è sempre un'attribuzione non è il mio caso quando mi sono capitate queste cose c'è sempre un indagare su ma dietro questa cosa che ritorno avrebbe questa persona piedi per terra umiltà e consapevolezza del fatto che a prescindere da quelle che sono le scelte di quella persona di essere coerente o incoerente nei suoi valori eccetera se quello che mi sta dando è qualcosa che mi fa crescere me lo prendo ed è un regalo sì c'era lei e poi ritorno lì vai il negativo mi rimanda mi rievoca l'esperienza del conflitto e in questo senso mi chiedo quanto per un leader è importante ricevere dei feedback al contrario e come affrontare questo conflitto che non credo che possa essere semplicemente risolto con un allenamento che è estremamente importante al feedback dato dall'alto verso il basso se rimangono dei sentimenti di rabbia nel campo questi inquineranno la relazione e il lavoro e quindi diciamo per me di fronte a questo tipo di concetto si apre una riflessione un po' più ampia sui conflitti nel team e su come è possibile affrontare questi conflitti non necessariamente in un modo unilaterale perché il leader ha bisogno dei feedback dei suoi come li vogliamo chiamare collaboratori e credo che ne abbia un bisogno estremo e che quindi sia importante chiedersi così come ci chiediamo come il leader deve proporre o correggere forse dovremmo anche chiederci come il leader può mettersi in ascolto della rabbia o dei conflitti che ci sono nel campo relazionale del team in cui sta agendo dopo quando parleremo di comunicazione parleremo di comunicazione assertiva e attraverso la comunicazione qualcuno magari ha già sentito questo termine assertività e poi lo definiremo con una comunicazione esplicita determinata che lascia spazio all'altro è possibile trasformare i conflitti in confronti e allenandosi nel team a darsi feedback e a dare feedback reciproci non soltanto unilaterali da parte del responsabile nei confronti dei collaboratori ma anche da parte dei collaboratori nei confronti del responsabile si può riuscire a risolvere situazioni del genere spesso quando si entrano nelle organizzazioni a fare un lavoro del genere c'è stato qualcuno dall'alto che ha chiesto di poter sembra di vedere almeno nella mia esperienza la pratica è quella del conflitto aperto dall'alto verso il basso ma poi non sostenuto al contrario non si sostiene uno spazio di conflitto che va dal basso verso l'alto nell'organizzazione almeno è difficile farlo si può fare quando si fa assolutamente si può fare io lavoro su questo e dunque certo certo però vedo che è una pratica la pratica del conflitto non è decisa dell'organizzazione quindi è una cultura ancora da esatto esatto però ci si sta arrivando ci si sta arrivando veramente attraverso l'uso del feedback una cosa adesso ti passo il microfono una cosa volevo dire prima ho parlato di rinforzo e poi mi sono collegata al feedback del rinforzo abbiamo parlato abbiamo parlato ieri il rinforzo può essere positivo o negativo ieri vi ho detto spesso nelle organizzazioni le persone si lamentano del fatto che la comunicazione magari nei loro confronti da parte del loro superiore relativamente a come stanno svolgendo le attività sia soltanto nel momento in cui qualcosa non va e quindi si da si arriva a dare la sgridata comunque a dare un riscontro negativo della persona il rinforzo positivo in termini di sto apprezzando il tuo lavoro deve essere attuato con molta più costanza del rinforzo negativo e usare piuttosto che la sgridata un feedback strutturato ha un valore enorme ecco che il feedback negativo si trasforma in effetti in un feedback positivo eccomi il leader o insomma la persona proposta a dare un feedback negativo lo fa nei confronti di tutti i collaboratori perché ecco senza poi troppo tener conto del ah no ma tizio è così allora vabbè lui non lo dico questa cosa la ometto vabbè dai fa niente tanto lui non ce la farebbe comunque invece cioè se adotto uno stesso metro poi magari cambio la modalità in cui offro il feedback al collaboratore in fondo della sua maturità però se una cosa è sbagliata per te è sbagliata anche per te e per te e per te poi posso cambiare il modo di dirlo il tempo in cui lo dico però è quello credo e poi un'altra cosa che volevo raccontare molto brevemente è questa a me è capitato di ricevere diciamo le confidenze di una collega che era molto rammaricata del fatto che la persona che in qualche modo le era superiore non le facesse notare subito dove sbagliava quindi non le dava quel feedback negativo quindi lei si sentiva di poter dare di più ma non sapeva dove sbagliava si sentiva mortificata perché si sentiva di vita delle mansioni molto semplici come se lei non potesse imparare a fare di più appunto la persona è inutile che tanto non migliorerai mai quindi ecco a volte possiamo rischiare magari senza rendercene conto di fare esattamente l'errore opposto di mortificare la persona perché noi glielo diamo esatto e perché comunque a prescindere dal fatto che come dici tu non glielo abbiamo dato però in un qualche modo il nostro atteggiamento nei confronti di quella persona è inquinato da quel feedback e non la facciamo crescere la teniamo bloccata quanto è più semplice per un manager in una situazione del genere far fare le cose alla persona più obberata ecco la persona diventerà sempre più obberata perché è la persona più responsiva perché è la persona più capace è molto più semplice perché non si deve impegnare a fare un piano di sviluppo del potenziale degli altri tanto quella persona comunque risponde gli manda una mail alle 7 di sera tanto l'indomani mattina alle 9 ho quel lavoro che problema c'è? Vai di questi corsi sulla ricezione e anche sull'emissione del feedback quanti ne vengono richiesti? Tanti su questo territorio? In questo momento sì su questo territorio? Su questo territorio non ho grande questa è giusto una curiosità perché anche le realtà più grosse che abbiamo visibilità cioè viene utilizzato un approccio completamente diverso ecco perché volevo notizie su come sta evolvendo il panorama al riguardo il panorama io in questo momento sto seguendo grandi aziende multinazionali e in queste realtà lavorative questi strumenti si usano tantissimo c'è un'evoluzione da questo punto di vista quello che io mi immagino è che comunque il trend verrà poi diffuso speriamo io ho molta fiducia in questo però in alcuni casi potrebbe essere il coraggio di alcune persone a far sì che le cose cambino cioè non è semplice da dirsi e magari potrebbe anche portare la persona a trovarsi nella difficoltà di dire oddio che faccio la dico questa cosa e magari rischio di essere impopolare oppure no quanto l'altra persona può essere pronta e ricettiva a questa mia richiesta se lo faccio con l'autenticità ecco ritorniamo sulla la mission anche individuale oltre che la mission aziendale oppure lo faccio con la consapevolezza di una coerenza tra quella che è la mia carta di valori tra quella che è appunto la mia missione personale quella che è la missione dichiarata aziendale a cui quella persona ha aderito e dice di aderire quotidianamente nel nel pormi verso questa persona stando attenta a non essere giudicante stando attenta a parlare dei fatti stando attenta a parlare di a me ha suscitato questo ma io non ti volevo a me ha suscitato questo non c'è non ti sto accusando di avermi provocato questo fastidio questa ansia questa insonnia questo dolore questo dispiacere ti sto dicendo a me ha causato questo forse sono io che sono un po' sensibile umiltà però io te lo dico perché dal mio punto di vista se non ci fosse questo aspetto la produttività potrebbe essere maggiore che ne pensi magari non mi dai una risposta oggi puoi avere delle persone che inizialmente sono molto chiuse ma se il tuo modo di comunicare è rispettoso di tutti questi questi diciamo accorgimenti piano piano le persone si ammorbidiscono magari dentro a livello inconscio qualcosa comincia a smuoversi e magari passerà un po' di tempo però vedrai che comincerà a cambiare l'atteggiamento io l'ho visto fare in persone che erano anche molto dure e l'ho visto come un piccolo miracolo come un qualcosa che dici ma non succederà mai non succederà mai e in quel non succederà mai magari il tuo atteggiamento e arriviamo di nuovo alla profezia autaverantesi sarà un atteggiamento che rinforzerà le sue aspettative negative nei tuoi confronti e allora in certi casi il cambio il far diciamo così saltare il paradigma non è detto che debba partire dall'alto magari parte da da quelli che sono i collaboratori uniti perché no vorrei chiedere di delucidare una una mia un evento che è accaduto la predisposizione dell'altra persona non è quella ok lavoriamo tutti insieme facciamo facciamo squadra tu gli fornisci un feedback negativo senza apporre dei giudizi semplicemente chiedendo che faccia qualcosa che avrebbe comunque dovuto fare la persona va in descenza nomi e quant'altro come si gestisce una situazione del genere il feedback è stato gestito il feedback è stato gestito con una strutturazione che abbiamo visto prima cioè io ho detto qual è stato il fatto che cosa ha suscitato in me dopodiché ho detto le conseguenze sono state queste e questa persona è andata in escandescenze ah ok allora nel momento in cui quella persona ha lo scoppio di ira è inutile continuare ad avere scambi perché comunque quella persona non è ricettiva quindi si si sta vivendo delle sue emozioni al limite il risponso che si può dare è vedo che questa cosa ti ha ti ha suscitato una reazione forte ne riparliamo in un altro momento e quindi si lascia poi si valuta in che modo abbiamo dato il feedback si cerca magari una seconda volta di portare la persona a cercare di entrare nel tuo punto di vista quindi immaginati questa situazione se tu fossi me come l'avresti vista come l'avresti vissuta cercare di far sì che l'altro si trovi orientato nella tua nella tua posizione fa sì che la persona ad un certo punto si stemperi questo anche quando si fanno dei giochi di ruolo nelle organizzazioni e magari il lavoratore che vede la sua posizione e trova fortemente ingiusto quello che è magari il suo responsabile ha deciso se tu chiedi alla persona di assumere per un momento il ruolo di quell'altro gli dai quelli che sono gli elementi naturalmente che gli servono per potersi porre in quella posizione ad un certo punto quella persona farà il salto del paradigma e capirà quello che è la mappa o comunque entrerà un minimo nella mappa dell'altro se è molto forte l'aspetto emotivo cercare di porsi in accoglienza può essere facilitante in accoglienza nel senso ma anche prendendosi delle diciamo così affermazioni forti o comunque prendendosi un'aggressività cioè cercando anche di sostenere questo se l'altro ne ha bisogno certo magari dietro c'è qualcosa di più complesso ho capito quali possono essere stati i miei errori eventuali pregressi che in realtà hanno portato ad un evento catastrofico diciamo così evidente ma che in realtà non era solo quell'evento quello che ha scatturito questo problema nel senso non era la domanda per favore fallo ma è semplicemente tutto quello che c'era c'era prima o magari la maturità della persona con cui mi confrontavo grazie certo non abbiamo tempo per 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 allenarci purtroppo sul sul feedback negativo o positivo l'unica cosa che che vi chiedo è pensate un attimo se c'è una situazione prendetevi un paio di minuti se c'è una situazione che vi sta particolarmente a cuore e che vorreste appunto gestire usando il feedback cercate di visualizzarla e cercate di immaginarvi in che modo lo dareste oggi prego sì la struttura è la stessa la struttura del feedback negativo e del feedback oppositivo è esattamente la stessa quindi comunque c'è un raccontare i fatti un dire appunto guarda questa cosa mi ha dato molta soddisfazione l'altra volta argomentare magari cercare di essere puntuali anche lì non dare un giudizio generico quindi cercare di essere puntuali nel guarda questa cosa mi ha dato molta soddisfazione perché la volta precedente quando avevamo visto questo lavoro insieme avevamo notato che c'erano degli aspetti un po' lacunosi ho visto che sono state colmate queste lacune e uno stimolo è lì il leader si trasforma in coach in quel momento mi vuoi dire che cosa hai fatto in che modo hai superato queste magari la persona ti dice ah sai mi sono confrontato ah buono perché quella persona in quel momento acquisisce consapevolezza di quelle che sono state le sue mosse per arrivare a quel successo e capitalizzerà il fatto che in una situazione futura magari in cui si troverà in difficoltà potrà riprendere quelle competenze quelle capacità quelle strategie che ha messo in atto in questo momento quindi sempre molta puntualità ok allora quindi dicevo vi vi do un paio di minuti per pensare a quello che può essere un feedback negativo o positivo che in questo momento sentite di aver bisogno di dare a qualcuno e magari di prendervi un minuto per farvi delle annotazioni giusto perché fissiate questo momento grazie a tutti grazie a tutti Grazie. 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 Buone relazioni, quindi l'aspetto relazionale è fondamentale e poi l'opportunità per sviluppare delle abilità e competenze, quindi l'opportunità di crescita. La persona deve verificare, deve sapere che comunque ci sarà un'opportunità di crescita per lei. E queste sono delle piccole, prego. Dov'è il microfono? No, semplicemente non mi è molto chiaro il punto responsabilità per il proprio lavoro, cosa si intende? Se la persona ha raggiunto il grado di maturità adeguato, piano piano, far sì che questa persona diventi irresponsabile, senta comunque di non essere un mero operativo, esecutivo. Ok, esauriamo così il nostro tema sulla motivazione. Ah, volevi fare un'altra domanda, prego. Non voglio assumerti la responsabilità. Come? Se ci sono persone che non se ne vogliono assumere la responsabilità, in quei casi sì. Beh, possiamo, allora, possiamo porci nella posizione di, ok, con quella persona, relativamente a quel compito, che stile ho adottato? Ho adottato uno stile che era forse delegante e quella persona non aveva la maturità adeguata per? Quando c'è spesso, magari, una maturità relativa al compito, quindi quella persona potrebbe fare benissimo quel lavoro, io lo so che è bravo, ma lo sa anche lui che è bravo, e manca invece la maturità psicologica e la spinta a prendersi la responsabilità di, ci possono essere due motivazioni. Da una parte l'insicurezza, dall'altra parte la demotivazione, allora bisogna capire che cosa può spingere quella persona. Forse non sente il valore del proprio lavoro, forse non vede un riconoscimento da parte mia, mi pongo in una posizione di critica, di autocritica, magari glielo chiedo, ecco, il feedback in quel caso lo vado a stimolare. Sempre quelle due sono le motivazioni, o si è insicuri o si è demotivati, quando si è, e allora in quel caso magari adotto uno stile persuasivo, quindi dando poche direttive e molto sostegno. Ok, gestione del tempo, come gestite il vostro tempo? Benissimo. In che modo? Stabilendo delle priorità. Ok, perfetto, stabilendo delle priorità in funzione di? La piramide di Marlo. Rispettando i miei bisogni, quindi la piramide. Le urgenze, degli obiettivi. Ok, ci sono degli obiettivi aziendali che vanno rispettati. Ok, sono gli obiettivi che ci guidano nelle nostre, diciamo, quindi nella nostra gestione del tempo. Perché no? Esatto, è buono. Gli obiettivi ci guidano nella gestione del tempo, i nostri valori, la nostra missione ci guida nella gestione del tempo. Questo è un centro importante da cui partire. Ma gli strumenti che si utilizzano, che utilizzate, quali sono? L'agenda. L'agenda. L'orologio. L'orologio. Aiuto. L'orologio. In che senso? Aspetta, prendi il microfono. Nel momento che durante le riunioni c'è un facilitatore o una facilitatrice che aiutano, che supportano il gruppo nella comunicazione e che orientano rispetto all'agenda che è stata condivisa dal gruppo. Questo è molto positivo. In alternativa c'è il metodo, ne parlavamo, dei sei cappelli di Edward De Bono. Vi consiglio questo libricino che è molto carino, sulla gestione delle riunioni, si chiama Sei cappelli per pensare. È Cappelli per pensare di Edward De Bono. È veramente delizioso come libro. Sulla gestione efficace delle riunioni. La facilitazione può essere più o meno lineare. Esatto. Questo poi lo dici di gruppo. Certo. Può affrontare l'ordine del giorno in maniera lineare oppure si possono affrontare anche delle reazioni, degli stati d'animo che emergono, però questo immagino che sia il gruppo a valutarlo. A valutarlo. Gestire il tempo all'interno della riunione in questo modo è molto efficace. Ci si può anche dare delle regole. All'inizio della riunione si dice ok, trascorreremo la prima mezz'ora andando ad esplicitare, a raccontare quelli che sono i nostri vissuti negativi o positivi. Dando spazio a tutti quelli che possono intervenire ma confinando il tempo. Dopodiché si andranno ad affrontare quelli che sono gli argomenti dell'ordine del giorno, andando però a fare una valutazione in termini di priorità. E poi adesso vedremo che cosa intendiamo. Quindi abbiamo detto agenda come uno degli strumenti. Come? Fondamentale l'agenda. Che altro? Mettere i numeri. Quindi dare anche lì delle priorità con i numeri. Visivamente. Ah, visivamente quindi una checklist di che cosa devo fare con i numeri, che è già, diciamo così, avanzato. Secondo me è una scala di priorità personale da rivedere nel caso, perché mi è capitato in più occasioni di aspettare gente che ha tardato per una fesseria, se vogliamo. Oppure facciamo questa cosa domani, no, io domani c'ho, cioè, voglio dire, devo stendere le robe, no. Cioè, a livello di lavorativo, mettere in conto che ci sono delle cose che vanno prese in considerazione un po' più seriamente e cose che devono essere delegate in una parte della giornata, ovviamente, decisa a monte. Dove ci si rilassa, dove non si perde tempo, insomma. Può essere una mano. Quindi condividere quelle che sono, diciamo così, anche le caratteristiche di quegli impegni che sono importanti. Sì. Ok, univocamente tutti quanti sanno che quelli sono... Sì, perché altrimenti si arriva alla scusa continua del, no, posso, sai, scusami ma devo, ma non riesco, magari è un interesse suo, insomma cose di questo tipo, che poi alla fine allontanano la persona dal conoscere magari una nuova realtà, l'esempio di questo corso. Se io avessi detto, no, non posso perché devo stendere i panni, avrei non conosciuto tanta gente, non visto una realtà che esiste, che non sapevo che esistesse. E' chiaro che all'inizio non potevo capirne le potenzialità, ma se io metto l'impegno per fare cose nuove magari ci si arriva. Certo, 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 volevi... no. Ok, quindi avete detto agenda, avete detto checklist con però una priorità definita. Arrivate al lavoro, la prima cosa che fate qual è? Come? Respira, ok. Respiro, è giusto. Apro la finestra. E quando cominciate le vostre attività, leggete prima tutte le mail? No, io scrivo sull'agenda. Oh, rivedo sull'agenda, riscrivo? Ok, e lo fai quotidianamente? Perché l'ordine di priorità non si definisce i giorni. Ok, ok. Come? Elimino lo spam. Elimino lo spam. Nonostante tutti i filtri. Il controllo della mail è che si possono essere diventati altri utenti, però ve lo sapete vedere. Ok. Quella scelta. Esatto. Che cosa sono le urgenze? Chi le stabilisce le urgenze? È difficile, dice giustamente, tra le nostre e quelle degli altri. Allora, gli strumenti per gestire il tempo si definiscono in strumenti di prima, seconda, terza e quarta generazione, almeno secondo la classificazione di Covei, così vengono definiti. Prima generazione, gli appunti e le checklist, quindi le to-do list che continuiamo comunque a fare a casa, nell'ambiente lavorativo, eccetera. Seconda generazione che comincia ad avere una strutturazione già un po' più complessa. Abbiniamo la parte comunque della, o magari prima facciamo la checklist e poi la riportiamo su una calendarizzazione, quindi usiamo lo strumento dell'agenda, oddio preziosissima, addirittura quante agende si hanno. Quante agende avete? Una. Una? Ok, bene. Io mi sto disciplinando ad averne una, perché? Perché ne avevo due. Una, quella cartacea, che dici se poi i sistemi vanno in tilt, e può capitare che i sistemi vanno in tilt, che cosa faccio? Ti trovi spiazzato se non hai l'agenda degli impegni. E allora quella cartacea, poi piano piano, visto che c'è comunque la possibilità di sincronizzare tutto il mondo informatico di cui ci avvaliamo, i pad, i phone, o comunque altri strumenti, computer, eccetera, uno riesce a stare un po' più tranquillo se si rompe uno, ce l'ho nell'altro e cominci a respirare e a perdere questa visione schizofrenica dell'agenda cartacea, nella quale ogni tanto magari ti dimentichi di scrivere le cose ed ecco lì che cominci a pensare alla bilocazione che comunque non è ancora consentita e ti dovresti trovare in due posti diversi nello stesso momento. Di terza generazione sono, e ne avete parlato quando avete detto definisco le mie priorità, sono le definizioni degli impegni in funzione delle priorità e le priorità le vado a definire in funzione di due parametri che sono l'urgenza e l'importanza. Allora, urgenti sono quelle attività o quei compiti che mi richiedono un impegno immediato, a breve termine, e sono spesso definite da me quelle urgenze? Il 50% o forse anche meno. La maggior parte delle urgenze sono definite dagli altri. Raccontavo oggi in macchina mentre venivamo a Salvatore che guardo le mail, quando faccio formazione di solito la sera guardo le mail, a meno che io non abbia appunto già la cognizione che mi deve arrivare una mail a cui devo comunque rispondere perché altrimenti blocco il lavoro di un'altra persona. Ecco, in quel caso considero quella una situazione importante e urgente perché non è giusto che gli altri vengano bloccati dal mio non poter rispondere. Le guardo e verifico quando c'è scritto urgente, le leggo, e se l'urgenza è di un'altra persona, e se quella persona non è una persona che ha necessità di una mia risposta per appunto poter andare avanti, ma è soltanto una sua ansia, e se quella persona è una persona sufficientemente matura professionalmente da poter gestire quell'ansia, io non rispondo. Rispondo domani, rispondo dopodomani. E piano piano educo quella persona a controllare la propria ansia e magari a formulare la richiesta in modo diverso. E piano piano viene fatto. All'inizio è un po' forte. E quella persona magari ti manda, mentre tu stai facendo docenza e hai il telefono spento, ti manda qualcosa come 3-4 mail e ti prova a fare 4-5 telefonate. Così il primo giorno, il secondo giorno, quello è stalking. E l'ansia agita semplicemente. E l'importanza? L'importanza viene definita da che cosa? Viene definita dal valore di quell'azione per il raggiungimento del mio obiettivo. Allora, Covei ha strutturato una matrice, nella quale matrice ha combinato gli elementi. Ha detto, ci sono delle attività che noi svolgiamo quotidianamente, che sono delle attività che non sono importanti, ma sono urgenti. Ci sono delle altre attività, che sono invece definite nel quadrante 1, che sono urgenti e importanti. Ci sono delle altre attività che sono definite nel quadrante 3, l'abbiamo già visto, nel quadrante 4, che non sono né urgenti né importanti. Allora, nella prima parte, quelle attività che sono urgenti e anche importanti, io mi ritrovo che cosa? I problemi, le situazioni di crisi, degli impegni che sono stabiliti prioritariamente dall'azienda, dal gruppo di lavoro, che hanno una scadenza. Mi ritrovo delle situazioni di ansia dell'altro. Nel secondo quadrante io mi ritrovo delle situazioni che non sono urgenti, ma sono importanti. E sono delle attività che sono strategiche per il raggiungimento dei miei obiettivi. Sono delle attività di progettazione, sono delle attività di pianificazione, sono delle attività di creazione di nuovi contatti, sono delle attività di innovazione, sono delle attività di sviluppo di opportunità. Nella terza, io mi ritrovo delle situazioni che sono urgenti, ma non importanti. Sono alcune riunioni che si possono fare di stato di avanzamento dei lavori, sono alcune telefonate, che sono delle telefonate, magari in alcuni casi, di assestamento, sono alcune richieste che mi vengono fatte dagli altri. E poi mi ritrovo in un'altra situazione, l'ultimo quadrante, di azioni, di attività che non sono né importanti né urgenti. Che sono delle attività di back office banali, che sono magari l'analisi di tutta una serie di informazioni, accessorie che non hanno un valore aggiunto per quanto riguarda il mio lavoro. Che sono le perdite di tempo? Secondo voi, e vi chiedo a voi, in quale quadrante svolgete la maggior parte, sono collocate la maggior parte delle attività che svolgete nel corso della vostra giornata lavorativa? Nel 2? Come? Prego. Come su Facebook passano quelle quattro fotografie? Come mi vede la mia mamma, come mi vede la fidanzata, come cosa sto facendo io? Penso che buona parte riguardano il non urgente, l'importante. Nel quadrante 2? Un quadrante 2. Con eventuali, poi dipende dal caso al caso, dalla tipologia di lavoro che uno svolge. Per esempio nel mio caso potrebbe essere l'allarme di qualcosa che non funziona, pertanto corri a riparare e molli tutto quello che stai facendo, che sia una progettazione dove ci va magari mezz'ora solo per concentrarsi su quello che si sta facendo, per fare una scemata da 5 minuti, che però per il cliente è bloccante. Pertanto nel momento in cui tu hai premuto il famoso pulsante e te ne sei venuto via, scaduto tutto il tuo processo mentale, devi ripartire da zero, ma intanto hai risolto un problema al cliente. Arrivi a fine giornata frustrato perché hai fatto niente, hai solo corso per premere dei pulsanti. Quando per la prima volta cominciai a rivedere la mia gestione del tempo con questo sistema, mi accorsi che la maggior parte della mia giornata era impegnata nel quadrante 1. Dentro di me all'inizio avevo la tranquillità, cioè guardando, leggendo il libro, anche frequentando due corsi di formazione che ho seguito, eccetera, ero sicura di essere nel quadrante 2. Poi ho cominciato a riflettere nella mia giornata e a verificare che era una mia illusione. ero nel quadrante 1 e passavo nel quadrante 1 la maggior parte delle mie giornate. Quale è l'unione? Urgente e importante. La percentuale era intorno al 70%, 75% in alcuni casi. Come? Arrivi alla sera che ti fumano le reche. ma soprattutto hai una sensazione di quasi inutilità del tuo lavoro. Dici, ok, ma di concreto, ma soprattutto di, non tanto di concreto, perché tutte sono attività concrete, ma di utile per il raggiungimento degli obiettivi, dei miei obiettivi o per lo sviluppo, per il mio sviluppo, per lo sviluppo del mio team. Ma che cosa ho fatto? E mi rendevo conto che magari avevo pensato, mi ricordavo che avevo pensato di attuare un piano di crescita, di organizzare una riunione per scambiarci dei feedback, e che quelle attività erano state rimandate. Ed erano state rimandate ripetutamente. E allora, fare un'analisi un po' più approfondita delle proprie giornate e cercare di capire in che quadrante ci troviamo, fa sì che prendiamo atto di quelle che sono le nostre strategie e cominciamo a cambiare. E il primo passo del cambiamento è cominciare a dire dei no. Allora, io sono d'accordo su quello che stai dicendo, però c'è un punto da focalizzare. Ognuno di noi, nell'ambito del seminario che stiamo seguendo, dovrebbe essere pagato da una realtà aziendale per svolgere un compito. Certo. Questo compito potrebbe anche richiedere che il 75% del nostro tempo sia impegnato nel primo quadrante. Ok. Cioè, mi sembra, e ti chiedo scusa anche se mi esprimo in maniera... Sì, sì, sì. No, 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 vai, vai. Estremamente, da un lato poco corretto, perché io sono pagata per svolgere un compito che può richiedere anche il quadrante 1. E dall'altro utopistico dire questo non rientra nei miei obiettivi. Perché non stiamo parlando di un soddisfacimento personale. Io non sto decidendo come deve andare la mia giornata personale oppure la mia crescita emotiva. Io sono pagata per svolgere un compito. E questo compito è spesso contestualizzato nell'affrontare il primo quadrante. Ti faccio una controdomanda. Alla tua domanda ti faccio una domanda. E ti dico, se tu azzeri la tua situazione o comunque pensi di avere la possibilità, apriti alla possibilità di cambiare le cose, ok? Se tu impegni, cominci ad impegnare, da domani, cominci ad impegnare la maggior parte del tuo tempo nel versante 2. E quindi cominci a fare una buona pianificazione, cominci a progettare, cominci ad impegnarti, ad investire tempo nelle relazioni, eccetera. Secondo te, le attività che rientravano prima nel quadrante 1, piano piano, non vengono svuotate? Sì, tu su questa hai ragione, però non dipende solo da noi. Nel senso che soprattutto nel momento che sta vivendo l'industria italiana e non solo l'industria, è un'utopia. E' decontestualizzare il problema. Che poi si debba fare, questo è un altro discorso, attenzione. Certo, certo, certo. Ciò che sta nel quadrante 2, siccome c'è l'urgenza del quadrante 1, passi nel quadrante 1. Cioè se io la pianificazione la rimando, la rimando, a un certo punto diventa urgente e mi ingolfo. Questa cosa a me è successa, per cui ci sono dei momenti in cui mi impongo di fermarmi e di pianificare la riunione, eccetera. Quindi, quello che dice Antonella è vero, però se uno è il leader, deve fare anche le cose importanti, ma non urgenti, credo. Volevo, poi arrivo subito, volevo dire una cosa. E' scomodo anche per noi. Nel momento in cui si fa, si fa soltanto perché si capisce veramente quanto determinante questo sia per lo sviluppo del gruppo, dell'azienda, del lavoro che sto svolgendo. Essere nel quadrante 1 significa essere reattivi. Significa che la sfera di coinvolgimento è enorme, è la sfera di influenza, è molto minore. Essere nel quadrante 2, arrivo, arrivo, non sto, io sto soltanto dando una, diciamo così, una panoramica. Essere nel quadrante 2 significa essere proattivi. Sì, però la giornata di una persona e le esigenze esterne sono un fatto. Però sono un leader. Sì, lo sono. Ho capito, però un leader non è un santone. Io vorrei... No, no, certo. Mi seguo, tutto questo è eccellente, però è un target anche molto elevato per la realtà in cui viviamo. È difficile. È difficile, ma non è impossibile. No, non è impossibile. No, poi secondo me... Poi c'eri anche tu. E anche tu. Ricondotto anche in una dimensione più piccola. Parla vicino così ti sento. No, dico che è vero che il target è molto alto, però si può anche contestualizzare, secondo me, in ambienti in realtà relativamente piccole e anche quotidiane. E l'osservazione che mi veniva a fare è che a parità di importanza l'urgenza può essere dettata da due, diciamo, può avere due aspetti. Uno oggettivo e l'altro soggettivo. Quello oggettivo è il fattore tempo e quindi la gestione del tempo è fondamentale. Cioè, se ti riduci all'ultimo momento è ovvio che è urgente. Può essere però oggettivamente urgente una cosa perché è una scadenza a brevissimo termine e quindi inevitabilmente questa cosa diventa urgente. Però se avevi 30 giorni di tempo per fare una determinata cosa e ti riduci al 29esimo giorno è ovvio che diventa urgente. Quindi dipende dalla gestione del tempo. Poi ci può essere l'urgenza soggettiva come dicevamo prima che tutto è urgente, tutto è urgente, tutto è urgente e quindi alla fine lì, secondo me, deve intervenire la maturità propria cioè la propria capacità di discernere ciò che è oggettivamente e ciò che è soggettivamente urgente. Per cui se ti viene tutto propinato come urgente alla fine dici devo bloccare io devo educare io le persone con cui lavoro che stiano sopra o sotto di te non ha importanza e mettere un filtro soggettivo sul connotato dell'urgenza. Secondo me questo è fondamentale quindi è vero quello che dici tu però secondo me molto dipende dalla nostra capacità di gestire il tempo e ritorniamo all'assunto. educare me stesso prima degli altri esatto la capacità di dire dei no la capacità di appunto filtrare le cose alle quali non si può dire di no ma ce ne sono tante a cui pensiamo di poter basta dirlo la prima volta il no e poi magari si aprono delle strade io parlo un po' anche per esperienza personale io la prima volta che ho fatto questa cosa mi sono sentita morire mi sono sentita morire una volta sono arrivata a non leggere le mail per due giorni mi sono sentita morire su questa cosa ho pensato di essere un irresponsabile ho pensato di non fare niente per guadagnare il mio lavoro il mio denaro eccetera quello che è successo è che con questo atto mio di anche accettazione della mia umanità le altre persone non solo se la sono cavata se la sono cavata benissimo sono riuscite a fare le cose benissimo e allora sono riuscite a farle meglio di come le avrei fatte io e allora dopo mi sono chiesta ma tutta questa questa mia diciamo così attenzione all'altro per l'altro eccetera tanto tanto non è anche un qualcosa che invece è una soddisfazione del mio senso di essere indispensabile che cosa succede quando da responsabile di alcune risorse ci rendiamo conto che non siamo responsabili scusate che non siamo indispensabili dovremmo gioirne eh dovremmo gioirne quanto però inconsciamente quella quella gioia ci arriva dopo e allora magari in modo anche provocatorio facciamocela questa domanda non succede niente non succede spesso le persone che sono proprio c'erano loro due che sono proprio quelle persone che ti avevano che ti mandano quelle mail così ad un certo punto vedono che tu non rispondi e la cosa la fanno e la fanno meglio di come l'avresti fatta tu e poi te lo raccontano e ti dicono lo sai che lo fa eh esatto esatto c'erano perdonami c'erano loro due e poi lo porto io ah ok allora c'era lui forse sarà che magari lavoriamo in contesti diversi oppure ci troviamo in momenti diversi della carriera però io la vedo in maniera diversa magari dell'intervento precedente perché non ritengo sia utopistico ecco quello che si vuole raggiungere per cambiare quel paradigma ma ritengo piuttosto sia necessario sia opportuno farlo perché ritengo sia utopistico invece vivere in quella condizione di urgente importante è quello che è folle completamente perché conduce a una situazione di stress che fa sì che le attività poi non vengano svolte in maniera serena e produttiva insomma si possa trarre un giusto beneficio credo sia quella una condizione di eccessiva saturazione delle risorse e quindi forse è quello utopistico in realtà vivere in quella condizione è opportuno invece cambiare grazie mi sono trovata in organizzazioni nelle quali la richiesta arrivo la richiesta era di coaching nei confronti di un gruppo di persone che appunto aveva necessità di gestire diversamente il proprio tempo e come prima cosa chiedi a queste persone di raccontare la loro gestione la loro modalità di gestione del tempo e mentre parlavo con queste persone e mi raccontavano appunto di fare duemila cose di avere delle scadenze impossibili di dover consegnare dei documenti lavorando la notte eccetera nella comunicazione che ricevo da quelle persone l'aspetto non verbale mi diceva tutt'altro rispetto a quello che stavano comunicando nel senso che loro mi dicevano che erano disperati perché appunto si trovavano in questa situazione e nei loro occhi io invece vedevo faville nel loro modo di raccontarmi vedevo un entusiasmo enorme una passione fortissima e allora c'è anche da farsi un'altra domanda quanto ci piace lavorare in una condizione del genere perché magari abbiamo un riscontro di quell'onipotenza che tanto vorremmo avere di quella grandezza quanto anche fisiologicamente lavorare in emergenza con la sensazione dell'urgenza ci piaccia perché l'adrenalina ci dà uno stimolo fortissimo ci rende più attivi quando devi fare un qualcosa e hai il tempo di programmare eccetera il tuo stato di rilassatezza fa sì che comunque il tuo livello di attivazione dell'organismo sia un livello medio nel momento in cui hai l'urgenza di fare un qualcosa c'è l'adrenalina e l'adrenalina ti fa da attivatore cioè cominci hai tre documenti aperti fai le connessioni connessioni che non avresti mai immaginato di poter fare questo è buono se non perdura nel tempo perché nel momento in cui è un qualcosa di confinato mi trovo in una situazione di ok ho il picco di stress raggiungo il mio obiettivo calo sto bene sì sto bene una bella botta di adrenalina dopo magari mi faccio una corsa perché altrimenti non riesco neanche a dormire e poi dopo ok vado tranquillo e mi faccio una bella serata o vado a dormire eccetera se questo perdura nel tempo mi logoro e arrivo poi ad una situazione nella quale il livello di stress è troppo elevato e le mie strategie di gestire questa situazione quelle che sono chiamate strategie di coping piano piano cominciano a non essere più efficaci e io mi sento sovrastare e quello che spesso succede è che il mio corpo si ribella e mi amalo una bella influenza che non mi permette di andare a lavorare e che mi porta a dover dormire 12 ore e il mio corpo recupera mi sta dicendo fermati fermati e lo devo ascoltare per forza sei una work è stata a work out sono stata sono stata sì sì no no le ho provate in prima persona queste cose le provo mi disciplino però le provo sì ho un'impressione viene fuori un po' il punto di prima cioè saper gestire nel migliore dei modi l'emozione del momento o no certo la gestione delle emozioni è sempre importante è una costante dobbiamo imparare a riconoscerle come prima cosa perché se non le riconosciamo non siamo in grado di gestirle di capire in che modo reagiamo in funzione di quella di quell'emozione non per diventare delle persone che con l'emozione non hanno degli scuotimenti ma semplicemente per poterla anche cavalcare in modo proficuo e per non lasciarci travolgere ma per gestirla appunto questo significa gestire una curiosità veloce quanto conta e quanto è importante riuscire a guardarsi al meglio lo specchio più volte durante la giornata in che senso cioè in questo senso nel saper gestire le emozioni cioè il fatto di guardarsi allo specchio la mattina magari cioè ma lo specchio fisico si guardarsi proprio nel vero senso non lo so no non lo so perché dipende da io sono una persona curiosità spicciola no io sono una persona che non ha specchi e che allo specchio mi guardo quando mi lavo i denti perché so come sono fatta quindi non ho bisogno di per una cosa mia non so dal punto di vista psicologico ti potrei dare delle altre risposte ci rifletto dai mi piace come domanda ci rifletto mi chiedevo se esiste un'indicazione di massima su quello che dovrebbe essere potrebbe essere una ripartizione ragionevole diciamo del tempo tra queste quattro aree tipo 70% 20% se facciamo un buon uso allora anzi se andiamo a vedere quelli che sono gli studi sulle persone di successo si va a vedere che quelle persone di successo la fascia del terzo e del quarto quadrante non viene quasi occupata la maggior parte del tempo è impegnata qua ma con un 80% 20% 80% sul versante della pianificazione e 20% sull'altro tra l'altro le ultime teorie sulla gestione del tempo vanno a cancellare anche proprio questa definizione cioè non si parla più di gestione del tempo ma di gestione di se stessi quindi gestisco me stesso e valuto il tempo in funzione di quelle che sono le mie priorità e quindi quella missione personale quelli che sono i miei valori cerco di riprogrammare tutto garantendo una coerenza un equilibrio una regola importante e poi facciamo 15 minuti di pausa però non vi muovete che vi devo fare delle richieste e dare delle indicazioni e cominciare ad esempio a fare una pianificazione che sia quantomeno settimanale quantomeno settimanale guardati mi risuono suona moltissimo quello che tu mi sei perché le ho provate queste cose quanto meno settimanale quindi una pianificazione che sia quanto meno settimanale e non soltanto una pianificazione del tempo che se vogliamo appunto gestire noi stessi e non farci gestire dal tempo che vada a riprendere quella che è la nostra missione personale e professionale che vada a verificare quelli che sono i ruoli che nell'ambito della giornata lavorativa e non io interpreto che sono il ruolo di lavoratrice ma sono anche il ruolo di amica che sono anche il ruolo di moglie o marito che sono anche il ruolo di sorella e di distribuire nell'arco della settimana il mio tempo tra questi fattori in modo tale da non andare ad incentrare la mia attenzione soltanto su un aspetto da ricordarmi che cosa sono diciamo così i sassi quali sono i pilastri per me e anche lavorativamente è uno dei pilastri anche il lavoro ma non è soltanto quello e lavoreremo meglio nel momento in cui avremo la possibilità di pianificare il nostro tempo in coerenza di quello che noi siamo di quello che noi di cui noi abbiamo bisogno per sentirci persone realizzate nella nostra missione personale allora volete dirmi qualcosa per rispondere volevo rispondere a lei però ci vediamo no 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 prego quindi per rispondere un po' a lei a parte il fatto che ci vuole un addestramento incredibile a fare questa cosa tutte le persone che conosco che riescono me compreso a fare questa cosa hanno dei risultati di produttività sia in quantità di qualità che di denaro assolutamente eccellente quindi significa ottimizzare tantissimo è chiaro che ci vuole del tempo da dedicare ci vuole una competenza io sono addirittura arrivato a non andare alle riunioni di formazione della mia azienda perché assolutamente inutili scegliendo di farne delle altre ok sono antipatico tra virgolette cioè mi hanno detto ma come non vieni mai ma la carriera quando la fai tu non ti preoccupare hai dato un feedback relativamente a quella che è assolutamente sì perché gli ho detto io di formazione con motivatori PNL comunicazione ne ho fatta tanta quindi nel momento in cui io vengo in una vostra riunione mi viene da ridere cioè perdo tempo quindi passa in automatico dal quadrante del urgente importante perché è la tua azienda che te lo dice a il quarto quadrante per me certo tra l'altro volevo dire un'altra cosa per nonostante cioè l'impegno a riuscire ad avere una gestione efficace del proprio tempo è un impegno costante ci si allena veramente ci si ritrova a volte nella situazione adesso sono ricominciate le attività lavorative dopo lo stacco estivo io mi sono ritrovata catapultata nel quadrante 1 e allora adesso mi sto ricompattando rienterrogando e sto rivedendo la mia modalità cercando di rispettare tutto quell'allenamento che avevo fatto tutto quel diciamo così tutti gli obiettivi che avevo già raggiunto perché comunque a ritornare in una cattiva diciamo così non ci vuole niente quindi è importante costantemente riequilibrarsi questa matrice forse mi sono distratto un attimo prima è applicabile solo durante le ore di lavoro il periodo lavorativo o tutta la vita intendi tu? certo ok e come distribuzione ottimale parlavi quindi di 80-20 tra i quadranti superiori? beh per quanto riguarda le persone di successo sono stati fatti degli studi che hanno detto che quelle persone trascorrono del tempo in questo modo poi ognuno di noi naturalmente piano piano si tara come? potrò mai essere il 5% perché adesso sono il 5% del quadrante 3 ma sempre è preservato eh tra l'altro che cosa si fa? quando si è tantissimo nel quadrante 1 il cioè la nostra pressione è talmente forte che ad un certo punto hai bisogno di andare nel quadrante 4 o nel quadrante 3 ne hai bisogno e fai l'opposto perché è una scarica volevo chiedere quella infatti pause socializzazione mi sembra un'attività importante ugualmente certo certo poi non è che demonizziamo alcuni momenti che sono quelli tra l'altro in alcuni casi quelle pause quei momenti di socializzazione invece potremmo metterli tranquillamente nel quadrante 2 perché sono momenti nei quali magari invece noi abbiamo ecco un insight abbiamo un suggerimento assolutamente premesso che abbiamo detto che la pianificazione è importante chi si trova in una posizione di leadership farebbe bene a condividere diciamo la pianificazione con i propri sottoposti o che io dalla mia esperienza personale se in questo lavoro o in quello precedente e queste ci venivano sempre dette all'ultimo momento erano tutte urgenti quando si è mai erano state pianificate già da parecchio tempo esatto beh questo è un esercizio che deve essere fatto a tutti i livelli laddove magari soprattutto laddove magari il tuo responsabile non ha minimamente una strutturazione di questo tipo è molto più difficile per la persona riuscire a rispettare senza magari trovare una diciamo così frustrazione nel momento in cui dall'alto gli arrivano delle richieste delle pretese in alcuni casi che lo farebbero ripiombare completamente unicamente quasi nella 1 è il momento del quadrante 4 allora adesso facciamo una pausa di 15 minuti però vi chiediamo una cortesia la cortesia è quella di stare due minuti ancora seduti perché dobbiamo registrare le vostre le vostre presenze al termine della giornata vi chiederemo a proposito di feedback di compilare una scheda feedback quindi vi chiederemo di appunto dare vi chiedo una cosa vi lasceremo un po' di tempo per poterlo fare perché oltre a dare appunto una risposta quantitativa dietro c'è la possibilità di esprimere anche dei suggerimenti di dare dei consigli che sono preziosissimi per migliorare questi moduli ok quindi questo lo farete dopo adesso Salvatore passa e vi chiederà di appunto registrare la vostra presenza ci sono due fogli firme uno è della giornata di ieri alzate le mani chi era presente ieri no allora siccome ieri abbiamo utilizzato un format interno questo oggi dobbiamo utilizzare un format per la giornata ieri purtroppo non avevamo stampato in tempo i fogli oggi quindi ci da firmare grazie a tutti Grazie.